E' in grado di andare a raccogliere anche negli armoni più stretti, con grande collaborazione dei cittadini. E' la sessione di lavoro che oggi a Palazzo San Giacomo ha consentito di illustrare le buone prassi in materia di gestione dei rifiuti soliti urbani, di politiche sociali ed urbanistica. L'iniziativa è stata programmata dall'assessorato alla cooperazione decentrata su iniziativa dell'Anci nazionale, per consolidare la collaborazione del partenariato internazionale con i territori che fanno capo alla fondazione che raggruppa sindaci ed amministratori locali dell'America Latina. Il risultato di un lavoro che noi svolgiamo nazionalmente da livello regionale con l'Anci, che appunto individua Napoli per questo momento di confronto di circa 50 tra sindaci e rappresentanti locali, dell'America Latina. Quindi vi erano rappresentanti dell'Honduras, Panama, numerosi del Guatemala, rappresentanze argentine, per studiare e confrontarsi sull'evoluzione della città, il sistema dei rifiuti, le linee urbanistiche, la mutazione e la vivibilità di Napoli e anche un osservatorio sul lavoro che si sta conducendo in questi anni ed il saldo ed il miglioramento, almeno al loro modo di vedere, della città rispetto alla immagine che conoscevano e che gli era pervenuta. A noi ci interessa molto seguire lavorando come abbiamo venito dal 2013 con i municipi d'Italia. creiamo che c'è una gran insegnanza che possono dare i municipi a paesi come l'America Latina e fondamentalmente a gli governi locali. nostro lavoro è inlazare a i municipi di diversi paesi e noi abbiamo proposto estrechare laze di unione, comunicazione e interagire attività di gestione local con i municipi d'Italia. in questa opportunità abbiamo stato in Florencia e qui in Napoli e speriamo che il prossimo anno potremo fare altre attività con altri municipi o con questo stesso, perché creiamo che le altre attività di l'America Latina possono apprendere molto da i municipi d'Italia.